via di lì oh maiale 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 rapporto adesso via su, su, sorpassa rapporto vuoi dire che questa è la fase che sta avendo la ruota, lutta eh vai a lì oh 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 Bravo anche da Nasconi, Chiara De Galeazzi conquista il campionato provinciale di 6 e Matteo Zucchi conquista il campionato provinciale G6 maschile di ciclo cross